Cosa ne sai dei mercanti di grano? Ciao anche a te. Molti di loro sono poveri ormai, perché? Ho una pista su Germain. Una donna di nome Marie compra per lui i carichi di grano e li dirotta in un porto privato. Marie Levesque. La conosci? I Levesque sono templari dalla terza crociata. Marie è stata l'unica a opporsi alla cacciata di Germain. Non mi sorprende che lavori per lui. Sai dove possiamo trovarla? No, io non lo so. Ma il poco grano che riesce ad arrivare a Parigi ora si trova all'Hotel de Ville. Ottimo. Andrò lì. Forse scoprirò dove si trova la signora Levesque. Allora. Andrò lì. Allora. Andrò lì. Allora. Ah! ehi tornate qui avete mancato il mono idioti dove andate mi tocca inseguirla premate porca troia occhio a dritta ehi tornate qui Remate! Remate! A babordo! Forza! Slegate la volina! Capitano! Qualche problema? No, signora! Conoscete gli ordini? Sì, signora! Bene! E inoltre vi informo che uno dei sacchi dovrà cadere! Eh... sì, signora! Al lavoro! Al diavolo! Non è importante! Alla prossima! Ehi, dopo Jacques a chi toccherà? Non me lo sono immaginato. Non ci toccherà? Non ci toccherà? Cosa è stata? I vostri giorni d'angeli evoluzionari sono finiti! Per me, maledetto! Per me, maledetto! Per me, maledetto! Per me, maledetto! Il Palais du Luxembourg, eh? E che state combinandola?